Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, vi spiego come aumentare gli FPS su Soundsoft Forest la nuova versione completa del gioco, quindi in questo caso andremo così a basarci su il pannello nuovo di Nvidia quindi tutti i settaggi Nvidia più nuove impostazioni direttamente nel gioco perché ultimamente questa versione ha fatto veramente moltissimo le impostazioni ne hanno aggiunte delle altre e mi hanno anche permesso di aumentare gli FPS di 20-25 in più giocando a Full HD con una scheda grafica 1660 Super e il processore Ryzen 5 3600 con 32 GB di RAM e faici oltre gli 80-95 FPS quindi in questo caso questo è il pannello nuovo di Nvidia quindi in descrizione ti ho lasciato il link che ti porterà sulla pagina per scaricare Nvidia App Game Beta scarichi così la beta, installi l'applicazione e prima di procedere così al cambiamento della grafica del gioco riavvia il tuo sistema operativo una volta installato l'applicazione e mi raccomando fai anche l'accesso a Nvidia con il tuo account una volta fatto vai direttamente come puoi vedere questa è la home sounds of the forest, impostazioni, grafica, eccola qua sounds of the forest ed eccolo qua gioco non è ottimizzato noi adesso andremo così a ottimizzare il nostro gioco e facciamo ottimizza scendiamo fino a giù fino a trovare queste occlusioni ambientali texture come puoi vedere ultra bassa, disattivato nuvole, contatto, distanza, diviso tutto, tra bassa e hanno aggiunto anche la risoluzione dinamica FSR che la grafica non è che si vede molto bene però gli FPS aumenteranno impostazioni driver come puoi vedere il pannello di controllo di Nvidia non esiste più quel pannello di controllo che trovavi qua sotto su impostazione di Nvidia è tutto collegato a questo pannello quindi sia GeForce che il pannello di controllo di Nvidia è uno solo eccolo qua, è diventato uno solo brillantezza dinamica e ray tracing ridimensionamento immagini come puoi vedere risoluzione rendering aumenti così la nitidezza al gioco però farai meno FPS con disattivato e fai applica modalità bassa latenza emetti globale ultra tecnologia monitor globale compatibilità G-Sync modalità di gestione dell'alimentazione per quelli che stanno giocando su un portatile conviene molto, preferisci prestazioni massime sincronizzazione verticale, questa è per bloccare gli FPS mettiamo disattivato in realtà virtuale questa non la tengo e non so cosa sia sul gioco non la tengo quindi le impostazioni sono queste ovviamente o fai su ottimizza qui, te lo fa fare tutto il gioco oppure lo fai direttamente manualmente qua sopra ok? quindi una volta fatto non ci resta che andare direttamente sul gioco e fare questi nuovi cambiamenti modificando così varie impostazioni su Sons of the Forest quindi in questo caso grazie anche alla nuova versione più completa hanno anche aggiunto nuove impostazioni che ti permettono di abbassare la grafica per fare più FPS quindi in questo caso se andiamo un attimo su opzioni su grafica proviamo a mettere tutto basso quindi tutto basso facciamo applica scende fino al giù fino a trovare la risoluzione dinamica eccola qua se tu la attivi qui puoi modificare la risoluzione dinamica quindi la grafica si vedrà male però farei più FPS come puoi vedere 120 faccio applica ed eccola qua facciamo oltre i 79 81 FPS però la grafica non si vede molto bene quindi in questo caso vai sempre su opzioni visto che abbiamo attivato la risoluzione dinamica la sfocatura mi raccomando mettetela su off sfocatura movimento off scende usare più su fino a trovare la distanza di rendering mettiamo media mettiamo media facciamo applica filtro anisotropico metti on distanza parallasse il filtro anisotropico terreno qualità oggetti pannello questo qua metti media risoluzione texture metti media ok eccola qua sempre oltre i 77 78 FPS sempre più giù qui ci puoi anche smanettare sulla risoluzione dinamica destinazione per esempio se adesso la tolgo mettiamo che ne so facciamo 20 arriviamo oltre 81 82 FPS quindi rispetto anche alla vecchia versione con quelle impostazioni che c'erano io facevo intorno ai 40-50 FPS però aggiungendo questi 25-30 FPS in più mi trovo molto bene ora a giocare sempre full HD con la scheda grafica 1660 Super lì c'è un sopravvissuto cos'è quello? quindi in questo caso più il pannello nuovo di controllo di Nvidia quindi Nvidia Up più le nuove impostazioni sulla nuova versione di Soulsoft Forest abbiamo così risolto i problemi di lag aumentando così gli FPS quindi se questo video ti è stato utilissimo iscriviti, lascia un like e noi ragazzi forse ci vediamo con un altro tutorial su Soulsoft Forest per migliorare ancora di più la grafica e aumentando anche così gli FPS quindi grazie a tutti per questa versione ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao